ciao creatura io sono lecate splendente e benvenuta tornata nel regno di colai ASMR avevo messo una storia su Instagram dove mostravo che stavo realizzando una girlanda fatta raccogliendo i traggi della vite l'ho raccolto questi rami e avevo realizzato questa girlanda intrecciando ramo dopo ramo intorno a se stesso e avevo creato i due perché da uno iniziale che avevo creato non erano avanzati di pezzi di rami e quindi ho voluto realizzarne una seconda che è venuta un po' più piccina ma molto bella che regalerò qualcuno una creatura mi ha commentato la storia dicendo che sarebbe stato bello farci un video ASMR ma dato che ormai mi è stato scritto mi è stato scritto dopo che avevo già realizzato tutto ma visto che volevo anche farci delle decorazioni ho pensato di fare le decorazioni con te in un video perché ormai la girlanda o meglio le girlande erano già state realizzate non potevo più tornare indietro e e così allora la girlanda è fatta andiamo a creare insieme le decorazioni per questo tipo di decorazioni dato che lo voglio fare la girlanda un po' shabby chic a tema natalizio andremo a realizzare la pasta di sale quella classica senza colla vinilica senza cose particolari soltanto farina questa è una farina vecchia che avevo in casa che era rimasta aperta poi sale fino vino e acqua solo tre ingredienti semplicissimi poi ho la ciotolina il mattarello per dopo per stenderlo poi userò una base di un quaderno azzurro e come sampini ho scelto questo panti zenzero lumino e delle semplici stelline di dimensioni diverse ce l'ho grande piccola 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 come prima cosa andiamo a calcolare con un bicchiere le dosi è tutto molto semplice si fanno due bicchieri di farina uno bicchiere un bicchiere di sale e vino e un bicchiere di acqua si mischia tutto e poi è pronta un bicchiere di bicchiere di farina due bicchiere di farina il sale ovviamente serve per conservare la farina, cioè i lavoretti poi possono essere cucinati in forno o seccati all'aria però siccome è inverno ti passerò un attimo in forno, comunque un bicchiere di sale e un bicchiere d'acqua, l'acqua andrebbe tiepide grazie 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 ok, uso questo vecchio quaderno come base, diciamo perché cosi ho una parte plastificata liscia la pasta è pronta adesso possiamo andarla a stendere e creare le nostre stelline i nostri bandi zenzero tutto ciò che vogliamo si può anche colorare con coloranti alimentari oppure anche con le tempere e utilizzare facendo non so tipo Buon Natale non so quello che vi interessa quello che vi pare e penso che andrò a fare qualche sbrustata di bianco sulle stelline per creare quell'effetto shabby shabby chic un pizzerine un pizzerine Grazie a tutti. 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 Io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura.